Mi sono lasciato con la mia fidanzata, arrestatemi. Con questa richiesta Grazio Pizzardi, ventenne disoccupato di Gela, si è presentato questa mattina presso la caserma dei carabinieri del reparto territoriale di Gela. Sono seguiti momenti di forte tensione. I fatti nelle dichiarazioni del vicecomandante Francesco Ferrante. Questa mattina intorno alle 8 un soggetto gelese, un ragazzo di circa 20 anni, si è introdotto all'interno della nostra caserma chiedendo con insistenza e in modo particolarmente agitato di conferire, di poter parlare con i nostri militari perché voleva farsi arrestare, voleva farsi sottoporre alla misura cautelare dell'arresto. Ovviamente i nostri militari con la massima serenità hanno tentato inizialmente di distoglierlo da questo intento ma lo stesso ha dato successivamente e ulteriormente in escandescenza. Infatti ha anche estratto un piccolo coltello a serramanico e lo ha brandeggiato nei confronti del nostro militare di servizio alla caserma e lo ha anche brandeggiato nei confronti degli altri militari che attorno alle 8 stavano accedendo in caserma per intraprendere il loro quotidiano servizio. Ovviamente la prontezza di riflessi, la professionalità e anche la saldezza dei nervi degli operanti ha permesso di disarmare lo stesso, di ammanettarlo e quindi di mettere in sicurezza tutta l'area e il soggetto che poi successivamente abbiamo tratto in arresto. Lo stesso durante queste operazioni di ammanettamento tuttavia è riuscito anche a danneggiare un tavolino in marmo presente nella sala d'attesa del nostro comando qui del reparto territoriale di Gela. I nostri militari successivamente quindi hanno proceduto ad identificarlo, si tratta di un soggetto con un piccolo precedente di polizia per guida senza patente e lo stesso quindi è stato arrestato ed è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Gela dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria qui del tribunale di Gela. Questo soggetto diceva di volersi far arrestare perché non ce la faceva più e perché evidentemente aveva dei problemi sentimentali perché si era lasciato con la propria fidanzata e quindi riteneva di trovare la soluzione a ogni suo problema facendosi arrestare dai carabinieri questa mattina.